Ciao, sono Dario Nencini, sono un operatore della Cueva della Luce e porto in questo studio meraviglioso qui a Meloneras diverse pratiche. Prima di tutto faccio delle coaching, sono un life coach, utilizzo anche i tarocchi, tarocchi intuitivi, una modalità differente di fare tarocchi, non è il tarocco classico con la previsione o come vengono usati appunto i tarocchi solitamente, è una modalità per riuscire a incontrare in un piano neutro anche l'altra persona, quindi delle coaching fatte attraverso anche l'utilizzo di simboli e strumenti esterni. Un'altra cosa che porto molto molto importante è un massaggio, un massaggio particolare si chiama Body Coaching perché attraverso il mio tipo di massaggio porto la consapevolezza, l'armonia e il riequilibrio, la riconnessione tra il corpo, la mente e lo spirito. Quando non ti senti ben radicato, quando hai delle tematiche rispetto all'energia sessuale, rispetto a tutto quello che è la tua presenza nel tuo corpo, attraverso questo massaggio possiamo riequilibrare tutto il nostro percorso. Quindi, polva della lusse, Dario Nencini, vi aspettiamo! Grazie!